Ogni uomo nasconde al suo interno un implacabile impulso di fusione con la natura, ricerca, scoperta, il desiderio dell'avventura. Ancora una volta il Team Kriker torna a raccontarvi di un viaggio portando i vostri occhi ad ammirare un'autentica meraviglia della natura. Qui, nell'incontaminata isola della Sicilia, l'energia del vulcano attivo più alto d'Europa, Etna Rising, il documentario esplosivo sul parco dell'Etna, solo sul canale YouTube The Kriker. Seguici!